Attenzione, le informazioni contenute in questo video potrebbero dimostrarsi non veritiere o cambiare nel corso del tempo. Come avevamo annunciato nel video sulle patch notes, sono stati trovati dei leak per quanto riguarda abbiamo visto un eroe. Non solo un eroe, anche l'arma, ovvero l'arma che tiene in mano il teddy come abbiamo visto, ed entrambe abbiamo visto che saranno sotto pagamento. Il leak trapelato è il seguente, Fortnite salva il mondo comprende l'eroe, l'arma Papa Bear, 500 biglietti raggi X e 1000 V-Bucks. Apparentemente sbloccherebbe anche degli incarichi, che oltre alle ricompense prima citate sbloccherebbe anche un troll leggendario, un lama plus, la skin per il battle royal e addirittura anche lo zainetto. Ma entrambi gli oggetti, ovvero sia l'eroe e sia l'arma dell'orso, sono entrambe semplicemente una reskin. L'eroe con il vantaggio squadra che incrementa la durata del teddy, uguale a Jingle Jess. Mentre l'arma si è scoperto che ha le statistiche e la descrizione identiche alla macchina da scrivere. Ciò cosa significa? Significa che non sono delle ricompense nuove che tutti dovremmo per forza ottenere. Sono appunto semplicemente delle reskin, in questo caso l'arma si pensa che comunque avrà anche un suono differente, magari qualcosa di differente, ma in sostanza le statistiche sono identiche alla macchina da scrivere. Certo, da una parte tiro un sospiro di sollievo, così non tutti per forza dovrete pagare per ottenere questo progetto. D'altra parte comunque sarebbe stato carino vedere introdotta quest'arma con una meccanica nuova e magari delle statistiche diverse da quelle della macchina da scrivere e rendere quell'arma diciamo un pochino più unica. Invece adesso se la regia gentilmente mi fa sentire al pubblico che mi sta seguendo da casa, la voce dell'eroe gentilmente? Ma la notizia principale di questo video sarebbe il pass battaglia introdotto anche su Salva al Mondo. Il pass casa base, cosa sarebbe? Non è un regolare pass battaglia come quello dell'altra modalità che propone diciamo cosmetici, skin e quant'altro. Questo è chiamato pass di casa base, è progettato per essere qualcosa di differente dal battle pass, dovrebbe aiutarci a salvare il mondo e non a distrarci con coperture cosmetici. Il pass battaglia di casa base quindi è ispirato al pass battaglia che c'è su Battle Breakers. La ragione principale è quello di farmare materiali di evoluzione, dando ai giocatori qualcosa su cui focalizzarsi mentre grindano tutte le missioni. Ovviamente le immagini sono solo dimostrative e attenzione a quello che sto per dirvi, prendetelo molto con le pinze in quanto è molto da confermare e molte cose sono molto confusionarie. Però vedremo quello che è stato proposto dai leaker e vedremo poi quello che si presenterà veramente ai nostri occhi. Sappiamo che comunque i leaks molte volte si rivelano davvero accurati, però ovviamente non sono notizie ufficiali dettate dalla Epic, quindi ogni cosa va presa veramente con le pinze. Come potete vedere abbiamo le ricompense principali di quello che è il pass battaglia denominato Foenix o Phoenix. Livello 10 20 pure gocce di pioggia, livello 19 100 flussi leggendari, livello 23 un lama troll leggendario, livello 25 rivantaggi, livello 30 un tipo di voucher nuovo, al 35 un voucher di reclutamento eroe e al 40 un reagente di promozione per i superstiti, che ancora non si sa bene cosa siano. La lista comunque va avanti con questi reagenti, a livello 43, 46, 48 e 50 troviamo altri reagenti per trappole, superstiti, armi ed eroi. Ripeto che comunque non si sa bene ancora cosa siano, ma la supposizione dei leaker, come vedete, è che per promuovere eroi, armi, trappole e superstiti avremo bisogno di manuali d'addestramento e queste cose reagenti. Poi è bene da vedere come lo implementeranno veramente nel gioco, mi sembra davvero strano che vadano a cambiare veramente un'altra volta la meccanica per evoluzione. Non so ragazzi, adesso comunque prendiamo veramente le informazioni con le pinze. Non so quante volte l'ho detto in questo video, vi chiedo scusa, ma comunque sono informazioni che potrebbero cambiare nel corso del tempo, anche perché sono in fase di progettazione e molte volte le idee cambiano da un momento all'altro e noi ci ritroviamo con in mano magari delle informazioni che in futuro non servono a nulla. Nel dettaglio comunque le ricompense sembrano veramente allettanti. Abbiamo 600 rivantaggi, 120 pure gocce di pioggia, 500 di oro, 60 fulmini in bottiglia, 690 per cap epici, 35 occhi della tempesta, 600 rivantaggi di nuovo, 12 scudi, 500 d'oro e 450 leggendari, non si sa cosa di leggendari, se flussi o stravantaggi. Le altre ricompense comunque includono manuali, mini lama, risorse d'evoluzione, oro, eccetera eccetera. Ci faranno sapere anche che il livello 50 del pass richiederà 2.799.000 punti esperienza stagionali, quindi avremo questa sorta di punti stagionali che accumuleremo solamente giocando, mi viene da pensare comunque. Phoenix a quanto pare non sarebbe solamente il pass battaglia, comprenderebbe altri cambiamenti nel gioco di salva al mondo. Alcune stringhe di codice fanno pensare che sia addirittura una vending machine, perciò con i distributori automatici dove è possibile ottenere le cose, no? Dove è possibile scambiare materiali da crafting per qualcosa, poi si vedrà bene cosa? Materiali come minerali e parti meccaniche. È un po' presto per confermare anche la notizia che segue, quella che saremo in grado di riparare le nostre armi, anche perché poi è possibile che comunque sia semplicemente qualcosa di implementabile in qualche altra modalità alternativa, no? È difficile comunque basarsi sulle stringhe di codice così su fiducia, specialmente su qualcosa che andrebbe veramente a cambiare la meccanica di tutto il gioco. Magari viene fuori, che ne so, un evento su cui è possibile riparare le armi, e di conseguenza è stata introdotta anche questa stringa di codice. Quindi è presto per tirare le somme, ragazzi. Ma una cosa è certa, sta per arrivare l'evento pirata parte 2, che non abbiamo mai avuto. Insomma, i cambiamenti comunque si prospettano molto positivi e soprattutto allettanti. Siamo sicuri che comunque qualcosa sta bollendo in pentola per quanto riguarda Salva al Mondo, ragazzi. Quindi state sintonizzati. Io vi ricordo di attivare la campanella al canale per non perdervi nessuna novità. E per oggi è tutto. Noi ci vediamo con il prossimo video. Bella Bella!